Marizio Fugatti, come commenta il rapporto di Confindustria? Nulla di nuovo perché purtroppo il rapporto è ancora negativo e dimostra che il settore manifatturiero ha diverse problematiche. Ha problematiche che riguardano la competitività dei nostri prodotti rispetto ai concorrenti esteri. La competitività che è messa in difficoltà e da una struttura fiscale del nostro paese, quindi da un'alta pressione fiscale, da un'alta burocrazia, da un alto costo dell'energia. E questo lo può risolvere, dicendo in modo molto facile, però non è facile da risolvere, il governo andando ad incidere sulla pressione fiscale, cioè diminuendo le tasse. Dall'altro lato però noi rimettiamo in campo una battaglia vecchia che avevamo fatto tanti anni fa e che purtroppo oggi ci dà ragione, che è quella del protezionismo, delle quote e dei dazi. Oggi il manifatturiero è in crisi anche perché non può competere con chi ha un costo del lavoro molto più basso, con chi non ha regole del lavoro, con chi non ha regole sindacali, con chi non ha regole ambientali, con chi non ha regole sanitarie. Tutti questi sono costi che invece ci sono sulle nostre imprese. Il professor Sartori, Giovanni Sartori, che non è certamente della Lega, sul Corriere della Sera, ancora l'anno scorso, nel giugno dell'anno scorso, ha scritto un fondo in cui diceva che l'unico modo per salvare le imprese manifatturiere europee, quindi non solo dell'Italia, anche quelle di altri paesi, è quello di impostare un'unione doganale europea, cioè l'Europa pone delle protezioni, pone delle quote al suo interno nei confronti dei competitori esteri. E questo potrebbe essere un modo per difendere il nostro manifatturiero, altrimenti indubbiamente competere con chi ha costi risori rispetto ai nostri è oggettivamente difficile. Grazie. Grazie. Grazie.